Ciao, io sono Roberta e benvenuti in un nuovo video. Oggi è l'11 settembre e ricorre l'anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle avvenuto ben 22 anni fa, l'11 settembre del 2001. Evento catastrofico, drammatico che ha sconvolto il mondo intero. Quando è accaduto nel 2001 io ero piccolina, avevo 6 anni e faccio parte di quei bambini di più o meno la stessa età che in quel momento stavano guardando la televisione e molto probabilmente in televisione c'era la melevisione, quindi tutti i bimbi erano attaccati allo schermo della tv. Quando apparve improvvisamente un'edizione straordinaria in tutte le reti che annunciava l'attacco alle Torri Gemelle, quindi che due aerei avevano colpito e distrutto le Torri Gemelle, simbolo allora di New York. A quel tempo erano, se non sbaglio, le torri più alte della città di New York. Ed è stranissimo che ancora oggi, seppur siano passati più di 20 anni, è molto strano che io ricordi quel momento. Ero piccolina, avevo 6 anni, eppure complice sicuramente il fatto che in tutti questi anni si è continuato a parlare di questo evento, di questa cosa gravissima che è successa, io però ricordo il momento esatto in cui in televisione vidi quegli aerei colpire quelle torri. E rimase impresso nella mia mente questa visione, e ricordo anche che qualche anno dopo, era forse il 2009, io avevo già 12 anni, quando andai con la mia famiglia negli Stati Uniti a visitare il Ground Zero, ricordo che un brivido mi scosse proprio l'anima. Ero piccolina, ma queste cose si percepiscono, anche se si è piccola. La gravità di queste cose, anche se non se ne conoscono le cause, perché si è ancora troppo piccoli, anche se non se ne capisce l'effettivo motivo, io penso, almeno come è stato così, quando mi ritrovai di fronte al Ground Zero, vedendo tutti quei nomi delle persone morte durante l'attacco, e ricordo ancora la sensazione, l'impressione che mi fece tutto ciò. Oggi sono qui, quindi, per consigliarvi, per parlarvi di alcuni libri che ho letto, e che riguardano, in un certo senso, in modi diversi, l'11 settembre 2001, l'attacco alle torri gemelle. In questi anni, comunque, io sono sempre stata attenta all'argomento, cercando di migliorare sempre di più le mie conoscenze su ciò che precede questo evento, per questo attacco, perché non è frutto di un caso, non è stato un incidente casuale. È stato tutto voluto e pianificato. Dietro c'è un'organizzazione terroristica e varie altre situazioni problematiche, a livello politico e quant'altro, e mi piace anche molto guardare i documentari su ciò che è accaduto l'11 settembre, prima dell'11 settembre e anche dopo l'11 settembre. E mi piace anche leggere libri sull'argomento. Allora, partiamo da un titolo e da una scrittrice abbastanza controversa. Questo libro, che si intitola La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci, quando uscì nel 2001, fu subito un caso editoriale. Riscose tantissimo successo, non soltanto critiche positive, ma anche critiche fortemente negative, per un motivo ben preciso. Questo libro e ciò che la Fallaci scrive in questo libro causò anche dei conflitti fra scrittori, fra gli scrittori stessi. Infatti, sempre nel 2001, nell'ottobre 2001, Tiziano Terzani, uno scrittore e un giornalista, con una lettera al Corriere della Sera, rispose in un certo senso a Oriana Fallaci. Fece una critica abbastanza importante a Oriana Fallaci, in particolar modo su ciò che lei scrisse in questo libro, La rabbia e l'orgoglio. Terzani l'accusa di intolleranza, l'accusa di alzare la bestia all'odio e alla cecità delle passioni. E le fa notare che la violenza non si combatte con la violenza, la guerra non si combatte con la guerra. Ma perché Terzani scrive queste cose? Il libro, La rabbia e l'orgoglio, viene pubblicato nel 2001, dopo che Ferruccio De Bortoli, l'allora direttore del Corriere della Sera, convince Oriana Fallaci a rompere il suo silenzio durato ormai dieci anni. È da dieci anni che Oriana Fallaci non è più sulla scena letteraria, ma anche nel dibattito. Mantiene comunque sempre la sua figura di pensatrice, cioè di scrittrice, di giornalista, vive a New York e si trova a New York proprio durante l'attacco alle Torri di Gemelle, l'11 settembre del 2001. Ferruccio De Bortoli le chiede di scrivere le sue considerazioni su ciò che accadde quel giorno. Quel silenzio nel quale si è chiusa a New York è destinato a rompersi perché, come lei stessa poi scriverà nel libro, ci sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. E quindi si lascia convincere e scrive un articolo sulle sue considerazioni riguardo l'11 settembre, un articolo sul Corriere della Sera, che verrà poi pubblicato sul Corriere della Sera. Successivamente scrive il libro, La rabbia e l'orgoglio, che è la versione più estesa, diciamo, del suo articolo, molto lungo, apparso sulla rivista. Quando alla Fallaci viene posta una domanda specifica come dobbiamo definire questo libro, La rabbia e l'orgoglio, lei risponde, si può definire come una predica, perché questo libro altro non è se non una predica agli italiani. La Fallaci è molto critica nei confronti dell'Italia, nei confronti degli italiani. Lei ama il suo paese, ma si sente ad un certo punto di doverlo abbandonare per vari motivi e si trasferisce appunto a New York, in America. Nutre un forte amore, ma anche un forte odio, una forte rabbia per quello che in Italia accadeva e per quello che in Italia era. Il libro però non si basa tanto su ciò che accade l'11 settembre, solo l'11 settembre, ma tutto quello che anche appunto c'è dietro. E' composto da delle opinioni, della Fallaci, che scrive in prima persona, che si rivolge al lettore, da opinioni molto forti, che possono essere condivisibili o meno. La Fallaci è tutto tranne che è politicamente corretta. E' in questo libro, che lei decide di intitolare proprio l'arrabbia e l'orgoglio, lei è estremamente arrabbiata e si nota. Le parole che lei scrive si trasformano, sembra di avere davanti Oriana Fallaci, che discute calorosamente, in maniera concitata, in maniera arrabbiata, di questa tematica, di tutto ciò che pensa. Se è un fiume in piena, non ha totalmente peri sulla lingua, e ha una posizione apertamente anti-islamica. Per questo e per altri motivi, per alcune sue posizioni, alcune sue frasi, anche forse eccessivamente arrabbiose, forse anche verbalmente violente, in un certo senso, per questo motivo è stata tacciata di essere razzista, di alzare alla violenza. Sicuramente, leggere questo libro, ad esempio, io su alcune cose sono d'accordo, su altre un po' meno, ma credo che chi ha letto questo libro, o chi lo leggerà, magari si troverà d'accordo con me. Cioè, alcune cose sono effettivamente reali, e lei le dice senza peli sulla lingua, altre cose, forse, potrebbero essere dette in maniera diversa. Sicuramente è vero, la violenza non si vince con la violenza, o almeno dovremmo cercare di arrivare a questo presupposto. La Fallaci vede anche la causa, crede che anche la causa, una delle cause di tutto ciò, è anche sicuramente un declino, un declino morale e politico dell'Occidente, vedendo la responsabilità di tutto ciò, soprattutto nelle classi dirigenti. Un altro titolo che voglio, di cui vi voglio parlare, è un romanzo, da cui è stato anche tratto il film. Si intitola Il fondamentalista riluttante. Un libro di Moshin Hamid, spero si pronunci così, uno scrittore pakistano. Romanzo uscito nel 2007, quindi qualche anno dopo l'attacco alle torri gianelle. Il libro racconta del sogno americano, poi distrutto in seguito all'11 settembre, di un giovane ragazzo pakistano, che si chiama Shange, anche qui spero si pronunci così. Il libro è un lungo monologo, nel senso che riporta un dialogo, cioè il nostro protagonista parla ad un uomo statunitense, che nella narrazione non appare mai, noi percepiamo magari le possibili sensazioni, i possibili pensieri di quest'uomo statunitense attraverso le risposte del protagonista di Shange. Attraverso le parole di Shange, attraverso diversi flashback, perché ci troviamo a Lahore, ma le parole del nostro protagonista ci portano a ripercorrere tutta la sua vita. È un ragazzo che ha studiato in America e che adesso è riuscito a raggiungere un livello lavorativo ed economico abbastanza importante. È appunto l'emblemo del sogno americano da parte di chi non è nato in America, uno straniero che è da un luogo magari lontano, lui viene dal Pakistan, giunge in America e riesce a realizzare il suo sogno. Conosce anche una donna bellissima, molto affascinante, che però si rivelerà una donna la cui vita è estremamente complicata e la cui vita l'ha resa estremamente complicata. Ha reso questa donna estremamente complicata. Ad un certo punto però, l'11 settembre, l'attacco alle Torri Gemelle sconvolge tutto il mondo e anche ovviamente la vita di Shange. Lui è un ragazzo pakistano, un giovane, un uomo pakistano e per questo motivo subirà diverse discriminazioni, ma anche degli atti violenti. L'attacco alle Torri Gemelle pone il protagonista di Forantea, un bivio, a ripensare, a riflettere, non solo sulla propria situazione, ma su ciò in cui crede. Adesso, agli occhi degli altri, Shange, poiché pakistano, potrebbe essere un possibile terrorista. Questo sogno americano, questa fascinazione per il sogno americano, inizia poco a poco ad indebolirsi, inizia appunto a ripensare a ciò che lui è, alla sua fede, anche al suo paese, e fa una scelta abbastanza importante. È una sorta di dialogo in cui è presente una sola voce, non è del tutto, non è un monologo vero e proprio, il protagonista non parla con se stesso. È un dialogo un po' a una voce, e non è neanche, è un romanzo abbastanza breve, ma abbastanza denso. Ed infine, vi voglio consigliare un libro un po' più complesso, di stampo principalmente saggistico, Le Altissime Torri, di Lawrence Wright, uno scrittore, giornalista e saggista statunitense. Il libro viene pubblicato nel 2006, ed esamina principalmente le origini di Al-Qaeda, ossia il movimento terroristico che fu a capo dell'attentato terroristico alle Torri Gemelle. Movimento di ideologia islamista, la cui figura principale fu sicuramente Osama Bin Laden. Allora, facciamo un passo indietro. Siamo nel novembre del 1948, e Said Qubb, pedagogista e scrittore egiziano, giunge a New York, giunge negli Stati Uniti. In via ufficiale, Qubb era stato inviato dal ministero della pubblica istruzione egiziano, era stato inviato in America, New York, per documentare il sistema scolastico americano. In via ufficiosa, era stato spedito negli Stati Uniti perché iniziava a diventare pericoloso per il governo a causa di alcuni suoi iscritti. L'uomo che a poco a poco inizia a comprendere che quel mondo, quel mondo americano, non solo è estremamente lontano dal suo mondo e dai suoi valori, ma inizia a definire gli americani come delle bestie. Un branco di gente cervellata, traviata, che conosce soltanto la lussuria e il denaro, scriverà l'uomo. Affermerà però che quelle idee che sarebbero poi state alla base di quello che noi oggi conosciamo con il nome di fondamentalismo islamico, ancora non erano del tutto chiare, del tutto vive nella sua mente. Anzi, all'inizio di quel viaggio lui non si sentiva neanche religioso, non poteva dirsi neanche religioso. Anche se credeva comunque che la pericolosità della civiltà occidentale che avrebbe inghiottito qualsiasi cosa era qualcosa da dover combattere, era qualcosa di pericoloso, qualcosa da dover combattere. Chi è quest'uomo? Chi è Saeed Qut? E l'uomo, non è importante tanto l'uomo, ma quanto le sue idee, quelle che poi matureranno e quelle che poi porterà avanti nella sua vita. Non tutti sanno che le origini di Al-Qaeda nascono proprio in America, perché proprio in America e proprio diciamo a causa di questo viaggio che è Saeed Qut inizia appunto a porre le basi di quello che poi sarà Al-Qaeda perché proprio quest'ultima si ispira ai pensieri, alle idee di Saeed Qut. Il libro dunque in maniera estremamente interessante ripercorre appunto tutte le origini di questa organizzazione terroristica, di questo movimento terroristico e riflette anche sulla parte americana, soprattutto sul ruolo che hanno avuto le agenzie americane, l'FBI e la CIA, su tutto ciò che sapevano, su tutte le informazioni che avevano accumulato ma che in un certo senso hanno sottovalutato. Hanno sottovalutato la situazione, hanno sottovalutato la minaccia che poi si rivelò reale, quella minaccia che poi portò all'attentato. Il racconto comincia infatti negli anni 90 quando questa organizzazione votata alla distruzione dell'America inizia a comparire, inizia a a farsi conoscere in un certo senso. In realtà però cominciavano già ad apparire tutte quelle caratteristiche letali ed inquietanti di Al-Qaeda. in realtà il gruppo in quel periodo era ancora piccolo ma faceva già parte di un vasto, di un grande movimento radicale che si stava espandendo sempre di più. Soprattutto nei paesi arabi. Gli uomini che facevano parte di questa organizzazione, di questo movimento erano ben addestrati alla guerra e disponevano anche di ingenti risorse. Ultima cosa ma non per importanza anzi forse la parte fondamentale è che erano fanaticamente devoti alla causa e avrebbero sacrificato la loro vita per questa causa. Anzi volevano proprio sacrificare la loro vita da qui poi appunto i kamikaze che noi oggi tutti purtroppo conosciamo. Nel frattempo avevano in mente di voler uccidere il più alto numero di persone possibile soprattutto in America. L'aspetto più inquietante e più spaventoso di questa faccenda era che in quel periodo però nessuno aveva preso sul serio effettivamente questa situazione. Sembrava una narrazione a dir poco ridicola a dir poco surreale esotica dice Lawrence nel suo esaggio. I Stati Uniti erano moderni erano tecnologici tutta questa narrazione che faceva Al Qaeda sembrava a dir poco primitiva. I gesti di Bin Laden quello che lui affermava sembravano dei gesti delle parole a dir poco patetici appariva tutto assurdo tutto patetico nessuno aveva preso veramente sul serio quello che poi sarebbe diventato uno dei movimenti uno dei delle organizzazioni terroristiche più devastanti a livello umano ma anche a livello politico eccetera eccetera è un libro molto interessante fra i tre che vi ho proposto è sicuramente il mio preferito ma è anche il più lungo diciamo sono più pagine da leggere però è abbastanza interessante bene io mi fermo qui spero che questo video vi abbia interessato il mio pensiero va sicuramente alle vittime di questo attentato che sono state purtroppo tantissime e ovviamente anche al non dimenticare io spero ripeto che questo video vi abbia interessato fatemi sapere il vostro pensiero qua giù nei commenti io vi mando un saluto e vi aspetto al prossimo video ciao